il nemico what's up guys qui è il vostro day che mi parla ragazzi siamo tornati con un nuovo video signori miei oggi qui per portare un fucile d'assalto di cui mi sono innamorato in questi giorni ma innamorato raga talmente tanto che porco il dudulons non riesco più a farne a meno cioè una roba ce l'ho proprio nel mio loadout predefinito e quelli che mi seguono anche sulla piattaforma viola sanno di chiara ma sto parlando porco il dudulons l'MTZ556 rag allora ci sono da dire tante cose riferite all'arma in primis è una come vi ho fatto vedere nei grafici non è la migliore per quanto riguarda il T2K cioè il riferimento al video di settimana scorsa soltanto che ha dei pregi che la rendono in realtà grafici a parte una delle migliori in primo su tutti il ratio di fuoco veramente elevatissimo in secondo luogo ragazzacci il recoil che come potete vedere è praticamente assente e anche una buona portata quindi potete laserare le persone anche oltre i 70-80 metri lo vedrete poi nel video e qua abbiamo un'arma porchio il dudulons certificata nazionale un assalto che vi svolterà da oggi per tutto il vostro weekend la video è da solo e parte con il calcio d'assalto close quarterone scanna MTZ clinch pro volata freno casus impugnatura supporto brunello di montalcino e 50 col poloni ragazzi avete bisogno di un'ottica togliete il sottocanna e mettete tranquillamente l'ottica che più vi aggrada in realtà potete anche abbondare con un corio eagle ile come potete vedere raga potete tranquillamente metterlo e riuscite tranquillamente a laserare la gente anche lontanissima ragazzuoli fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate provatela perché è incredibile se poi la provate con la build nazionale o così senza mirino in purezza che è lo stesso mirino ovviamente dell'MTZ fucile a battaglia fate proprio i buchi e sfruttate il recoil visivo a zero ovviamente ragazzuoli fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa pensate di quest'arma alquanto pazzerella noi ci vediamo domani con il prossimo video bella ragazz minchia faustino c'aveva già le armi qua sì sì no faceva più male dei proiettili raga sì lo sentito anch'io che hanno bandati una vagonata ieri sì ma tanto vabbè il nemico ti ha perso soldato nemico in arrivo e se per ma bandi di solito bannano hardware eeeh sure triple eh teoricamente eh non è un pompa però raga eh cioè è il pompa ma il kit non è un pompa non ho non diventa più un pompa diventa un fucile d'assalto no in realtà è un po' storto raga al è straforte alla hitbox che poi questo questo sicuro sta giocando senza cuffie lo sto giocando senza cuffie sto giocando col col sound del del tv sicuro come loro all'hitbox in alto a sinistra quindi è un pelino un pelino storto infatti l'xrk stalker è più consistent è più lento in realtà è più lento il kit dici il fucile a pompa l'ho fatto la prima partita ho fatto 22 bombe più win ma chi ti ha visto e sentito fra zero nella vita ok adesso puoi spingere si ho spaccato la lobby giallo madonna chi era questo qua kinder movimento che cazzo di slide mi ha fatto questo che cazzo di slide mi ha fatto ha fatto 16 metri di slide aveva le ginocchia imburrate questo qua chi ho su sto push ma ecco ecco sono qua frate ho pensato che l'hai rimossa ancora giù non so quale ha il kv brockside bro il fucile a pompa dmv2 gross chi lo vede quello che cazzo di slide ritorno sta per finire mi raccomando non vedo una sega lì dentro giuro no ancora no però è uscito ieri non vedo niente raga non vedo niente non vedo niente non vedo niente guardate chi cazzo come cazzo devo morire raga non vedo niente sparato totalmente a casa infatti ho insistito non devo insistere mannaggia ma niente zero nulla più assoluto 5-5-6 è facile da usare ha un ratio di fuoco della madonna e anche una buona portata ah do che forte è forte questo mamma mia che forte questo sto a squagliare questo qua io ne abbiamo spaccato frate letteralmente spaccato i culi proprio bro grazie aficione no c'è un scudiero non ho laserato un scudiero è stata una potenziale rottura di coglioni non indifferente ho detto che spacca star meta raga attenzione sua b in uscita dall'area operativa famonos abbiamo certificato un'altra arma certificata nazionale ma c'è l'ho io il mio